Una vicenda straordinaria, al limite dell'incredibile, resa possibile solo dall'intuito di una madre. Lutz Quevas, che per sei anni ha creduto che sua figlia Delimar Vera fosse morta in un incendio, è riuscita a ritrovarla grazie a un dettaglio, le fossette sul viso. La bambina, rapita alla nascita, era cresciuta in un'altra famiglia con la sua presunta madre, Carola Incorrea, poi condannata a 30 anni di carcere per rapimento. La storia, riportata dal The Guardian, ha inizio nel 1996 a Filadelfia. Lutz e suo marito Pedro Vera, neogenitori, perdono tutto in un tragico incendio che distrugge la loro casa, iniziato proprio nella stanza della neonata di appena 10 giorni. Non trovando alcun corpo, le autorità concludono che la piccola fosse morta tra le fiamme. Una tragedia che segna la coppia, fino a un giorno cruciale sei anni dopo. A una festa di compleanno, Lutz nota una bambina di nome Alia. Qualcosa in lei risveglia un legame profondo e inspiegabile. Spinta dal suo istinto, riesce a ottenere una ciocca di capelli della bambina per un test del DNA. Il risultato è chiaro. Alia è in realtà Delimar, sua figlia scomparsa. La bambina, nel frattempo, era stata cresciuta a Willingboro dalla sua rapitrice, Carola Incorrea, poi arrestata e processata. Delimar, oggi adulta, ha condiviso la sua esperienza in diverse interviste, rivelando il trauma del cambiamento vissuto a soli sei anni. Non avevo l'età per capire cosa stesse succedendo. Mi sono adattata alla mia nuova famiglia, cercando di fare sembrare che non fossi mai stata rapita. Ma dentro di me ero il lutto per la famiglia che avevo perso. Solo intorno agli undici anni ho compreso la realtà. Ora sposata e madre acquisita di un figlio di undici anni, Delimar vive a Filadelfia con suo marito Isaià. La sua storia, raccontata anche in un documentario, è un potente esempio di amore materno e di come il sangue chiama, come dice spesso Lutz Quevas. Le mie fossette, ha raccontato Delimar, sono state il primo segno. Mia madre dice sempre che è stato il nostro sangue a parlare.